Si è svolto presso la Sala Eden ad Ortona il secondo workshop del progetto Ufficio Unico Europa Vicina, finalizzato a creare un nuovo modello di servizi tra più realtà comunali che, attraverso azioni formative ed informative, mira ad avvicinare gli enti pubblici all'Europa e da creare un percorso unico per accedere ai finanziamenti europei. Il progetto, con capofila il Comune di Ortona, vede insieme i comuni di Tollo, Crecchio, Arielli, Canosa Sanita, Orsogna. In ogni comune è stato aperto uno sportello informativo, avviati i tirocini e la formazione sia per il personale della pubblica amministrazione che per i giovani inoccupati. Tre i convegni, uno a Tollo per approfondire i bandi per la ricerca e l'innovazione alle imprese, uno ad Ortona per i finanziamenti mirati al settore agricolo. Il terzo appuntamento si terrà ad Orsonia il 22 settembre per parlare dei bandi destinati al terzo settore. Sindaco Leo Castiglione, il Comune di Ortona è capofila di questo progetto? Sì, progetto Europa Vicina che serve ad avvicinare l'Europa a noi e noi all'Europa perché sentiamo parlare di Europa, di progetti europei, però poi dobbiamo entrare in questi progetti, nelle varie dinamiche sia a livello istituzionale che a livello di imprese, di aziende interessate. Questo progetto serve proprio a fare questo, a preparare non solo il personale delle varie amministrazioni, ma anche avvicinare i giovani, infatti si prevede anche la partecipazione di sei tirocinanti, che proprio per apprendere quelle conoscenze, quelle nozioni necessarie per portare a termine quei finanziamenti che sono previsti. In questo caso parliamo appunto dei fondi europei 2023-2027, perché oggi è più facile prendere i finanziamenti europei che non concretizzarli. Ecco, dobbiamo essere pronti e questo progetto mira proprio a questo. E ancora una volta c'è questa rete fra comuni? Sì, ormai è una rete consolidata con i comuni della Marruccina e dell'Ambito. È necessario fare rete, soprattutto per i comuni piccoli, dove insieme a comuni un po' più grandi si crea quella collaborazione, quella sinergia che porta poi a crescere come comunità e come territorio. Questo progetto ne è la dimostrazione, ma noi abbiamo messo in atto anche altri progetti che ci vede collaborare proprio per migliorare l'offerta dei servizi ai nostri concittadini.